buongiorno e benvenuti in questo nuovo video oggi portiamo la patong provare a fare un giro in bicicletta adesso ci prepariamo e partiamo siamo pronti per partire questa nuova avventura il tuo stato d'animo qual è oggi ansia la famosa ansia da prestazione il mio wood daddy con la bici che dovrà imprestare a sua figlia wood daddy good morning eh cosa dici i'm very happy my my daughter drive ride the bike sometimes because she is getting a little bit fat you know in questa bellissima giornata ovviamente subito salita ma lei fa la fighetta parte col turbo vediamo se arriverà alla fine questi primi cento metri di trasferimento da te ne pensi già morta la donna è morta sorpasso e tene duro tiene botta lei primo tre della giornata si chiama big stone dovrebbe essere abbastanza easy che guado primo passaggino semi tecnico ma niente di che e lo affronta con il sorriso vai 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 non fermarti bravissima ecco perché si chiama big stone per i sassi big è troppo difficile come è andata la prima discesa e vedrai che facendo un po di pratica si migliora no si stiamo risalendo per la seconda volta sul monte mi obbliga a mettere l'eco cosa hanno fatto le bici elettriche a fare se usi solo l'eco comunque risaliamo perché la discesa che abbiamo fatto prima era una prova a vedere se più o meno sapeva andare e non so andare quindi non so perché stiamo risalendo e adesso andiamo a fare il vero giro ovvero andare a fare la famosissima blue line blue line qualcuno ha finito in mezzo alla melma? incredibile pazzesco guardala lì come che la pedala guardala lì in piedi sui pedali bravissima no brava perché dici così? ma cazzo l'ho fatta tutta in eco come la salita devo prendere fiato adesso secondo me pausa ah che male russe che dici chi ha abbracciato l'albero? tagliene guarda come scivola vai 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 non frenare col davanti senza frenare con quello davanti su 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 ma cosa sei diventata qua nel giro di mezzo a pedalata tu conosci il monte venda? dovrei perché ci abito che rimbambita che rimbambita stiamo affrontando la salita che ci porta alla partenza della blue line come sta andando? bene dai soddisfatta per ora sì molto pensavi peggio? sì però la salita la senti la discesa anche allora aperitivo fatto vediamo se dopo un po' di coraggio liquido qualcuno si molla di più è l'entrata? blue line vediamo se riusciamo a portare a casa questo obiettivo che succede? ho sbagliato l'inno vai vai sei giusta sto lì sul bordo dai qui beh questo era già un po' più difficile ma non era non era molto difficile c'è il salto qui ma non farlo che salto? sì che lo faccio questo vai 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 non frenare non frenare non frenare wow what the è stimolata da ferma eh? cosa facciamo qua? cadiamo? sì ma da ferma fighissima sta blue line veramente per ora figliatta dove sei? vai 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 queste li fai tutti vieni 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 non aver paura vai 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 eeeh pianino su questa vera allarga le ginocchia brava chicken line pango fangosa si ragazzi siamo fai patong si si brava patong bravissima brava wow che sassone vediamo se qua scende la patong ce l'hai fatta stanta vai vai brava hanno i rilanci vai via che sei una bestia vai 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 e chi è in mezzo questo bello guarda che li facevi quelli basta inquadrarli in un trovato a piedi vai 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 bravissima wow sul culo brava 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 dai su brava bravissima bravissima tagliene brava vai vai sul sedere sul culo sedere brava si morbida sulle braccia che ha preso qua la patata la patata morta dai che siamo sul finale della blue wine me lo sento come sta andando male perché sei bravissima e mi sa tanto che la blue line è stata fatta conclusa com'è andata? bene blue line fatta adesso ci manca tutto il ritorno qualcuno è distrutto lì davanti c'è qualcuno che è morto visto che mi hai rovinato la discesa come penitenza mi lavi la bici? no sarebbe giusto che mi lavi la bici? al venticinquesimo chilometro ci mancano ancora 200 metri di slivello ma la signorina qua è stanca aspetta che mi alza però molto impegnativo non per i principianti come me quello assolutamente no giro praticamente è finito molto bello figata aspettiamo che arrivi la signorina c'è la signorina? dov'è la signorina? è andata bene molto soddisfacente non vedo l'ora di essere a casa ciao a tutti